Presidente della Società Italiana di Virologia, nonché il Direttore del Laboratorio di Microbiologia degli Spedali Civili di Brescia. Per riassumere la vicenda, il paese di cui stiamo parlando è Corsano, c'è stata un'impennata di casi in pochissimo tempo. Io chiederei la prima domanda, che cosa sta succedendo a Corsano e che cosa è Corsano in questo momento quindi? Quel che sta succedendo a Corsano è l'espansione di una variante virale che è emersa in pochi giorni partendo da una scuola e diffondendosi poi a parenti, amici da parte dei bimbi infetti. In poco tempo un paese di 1.400 abitanti ha avuto circa 140 infetti e quindi questo ha fatto destare un po' di preoccupazione a tutti noi e abbiamo cercato di capire che cosa stesse succedendo. Stiamo parlando della variante inglese professore, intanto la saluto ed è un piacere averla collegata. Esatto, l'analisi dei primi casi ha subito mostrato che era una variante inglese e poi adesso sappiamo che praticamente a campione tutti quelli che abbiamo analizzato hanno questa variante, quindi è un primo nucleo di espansione di variante inglese sul nostro territorio. E per quello che avete visto è effettivamente più contagiosa? Cioè rende il virus più contagioso? Beh, se si calcola che in pochi giorni questo virus è stato capace di infettare 140 persone, chiaramente è indicativo della sua rapida capacità di diffusione. Del resto non deve sorprendere perché questa variante è stata studiata dai colleghi inglesi e si è visto che per il 75% è più capace di diffondere e di infettare rispetto al comune virus che abbiamo conosciuto. Senta, le chiedo anche se è arrivata a Corzano, che è un piccolo paesino del Bresciano, possiamo dire senza troppa preoccupazione di sbagliarci che plausibilmente è in circolazione in Italia e anche altrove? Guardi, non sbaglio affatto perché intanto a Corzano stiamo cominciando a vedere delle mutazioni in questo virus che attestano per una presenza sul territorio un po' più lunga di quella che in effetti è la manifestazione diciamo clinica. Quindi il virus sarà presente da più tempo rispetto a quando è stato individuato e questo ha permesso la sua diffusione, tanto è vero che se noi analizziamo campioni random sul territorio troviamo la variante inglese anche chi non è di Corzano. Quindi chissà quando è arrivata, già da un po' ce l'abbiamo in casa, questo mi sta dicendo? L'abbiamo già da un po', non so dirle quanto perché gli alberi filogenetici ce lo diranno a breve, però certamente da qualche mese non è una cosa di oggi. Lei diceva che molti bambini si sono presi il virus e pur essendo asintomatici evidentemente l'hanno trasmesso, cioè si sono dimostrati dei buoni vettori, ho capito bene? Sì, sono dei buoni vettori bambini perché hanno una buona carica virale ma non hanno sintomi, sono quasi sempre asintomatici, poi se si considera che questo virus è più infettante degli altri certamente funzionano quasi super diffusori se vogliamo vedere in piccolo, per cui non sorprende questi numeri. Però deve far temere in futuro anche un'espansione notevole sul territorio italiano, questa variante inglese, tanto che Anthony Fauci ha detto che sarà la variante che dominerà il mondo a breve. E quindi più infetti, certamente sembra essere meno letale, almeno anche a Corzano non ha dato nessun grosso problema ad oggi. Lei dice meno letale, immagino che sia l'evidenza che avete dai dati che starei studiando, però cos'è che ha detto Ricciardi Alessio? Il professor Ricciardi, che oltre a essere un professor di regione pubblica è consulente del ministro Speranza, appena finito di parlare con i colleghi inglesi, ha scritto su Twitter Variante britannica più contagiosa e purtroppo anche più letale, si diffonde nei giovani più che la precedente, è ancora neutralizzata dai vaccini disponibili, ma sta ulteriormente buttando, bisogna fare presto con le vaccini. Professor Caruso, aiuto è l'unica parola che mi sento di dire? No, no, guardi è tutto normale, allora percentualmente i colleghi inglesi hanno detto che è meno letale, nel senso che rispetto ai malati, agli infetti, una percentuale minore muore. Certamente, essendo capace di diffondere tantissimo, farà più infetti e nella numericità degli infetti ci saranno ovviamente più malati e anche forse più letalità. Garattini, è questo il punto?